Ciao Liberato, intanto ti volevo chiedere un parere sulla tua prestazione perché tanto che non venivi schierato dall'inizio dal mister e poi secondo te quali sono stati i maggiori demeriti dell'Empoli, cosa l'Empoli ha sbagliato di più oggi nella partita con l'Atalanta? Per me, noi ho giocato una grande partita, noi devi continuare così, però è normale aver perso contro una grande squadra, l'Atalanta, perché l'Atalanta c'è qualità e quindi noi abbiamo preso due gol di grande qualità. Io sono contento perché è il mio primo titolare, anche per me devi continuare così, devi allenare bene, perché davanti a me è un fortissimo giocatore in Parisi, quindi è normale quando in una campionata così c'è due giocatori giovani che allenano e giocare bene. Due curiosità, la prima sulla difficoltà o le difficoltà che hai incontrato in questa partita e l'altra che cosa stai rubando tra virgolette a Parisi? Sì, è una bella domanda. Sì, contro l'Atalanta loro gioca uno contro uno, quindi fisicamente loro sono forti, però quando il campo è aperto, l'Atalanta è molto forte. Però noi abbiamo giocato anche una bella partita, noi siamo anche concentrati in 95 minuti, però l'Atalanta è molto forte. Con Fabio, con Parisi, lui c'è molto confidence, come si dice confidence in italiano? Confidence? Sì, contro Sassuolo, poi subito dopo il Napoli, poi la Cremonese, ecco, sarà importante tornare a fare punti in queste tre partite? Siete pronti appunto per ricominciare a fare bene per quanto riguarda il punteggio? Sì, certo, contro Sassuolo, anche con Cremonese, anche contro Napoli, perché l'anno scorso noi abbiamo preso sei punti, quindi sabato è un'importante partita. Noi questa settimana devi allenare forte, allenare bene e forciamo prendere tre punti questa settimana. Grazie a tutti.